Il rapporto tra scienza e fede, la forza dell'intelligenza umana, la logica del creato, ne parla al Tg2 lo scienziato Antonino Zichichi. L'ha incontrato per noi nella sua casa in Svizzera, Alessandra Forte. In un asteroide della fascia principale scoperto nel febbraio del 1986 e che gli è stato dedicato, è racchiuso lo spirito dell'esistenza del professor Antonino Zichichi. L'amore per l'universo che lo ha spinto ad inseguire le nuove strade della fisica subnucleare per gran parte della vita e ancora oggi ha 94 anni compiuti. Io ho un cervello che pensa sempre ed è una macchina. La forza dell'intelligenza umana è la colonna portante per il progresso su tutti i settori. Quindi se trionfasse la scienza non ci sarebbero le guerre. Tra qualche mese lei compirà 95 anni. Ha ancora un sogno nel cassetto? Sogni nel cassetto? Se ne avessi uno solo sarebbe niente, ma ne ho tanti. Cinque nipoti, due figli, una moglie, Maria Ludovica, biologa, accanto a lui da 66 anni. La vita divisa tra i soggiorni in Svizzera e in Italia e la certezza mai vacillata che tutto sia riconducibile alla fede. Io sono innamorato di colui che ha creato il mondo. Colui che ha creato il mondo non è un uomo, è Dio. Questa cosa che si chiama fisica in effetti è la logica del creato. Scienza e fede sono entrambe doni di Dio, doni di Dio. Non sono conquiste dell'intelligenza umana. Scienza e fede sono entrambe doni di Dio.